A Giorgio che mi ha portato da mangiare? Tieni! No, ma queste... No, non mi piace, non sai... Tieni, prendi il panino. No, ma questo è il panino del fast food, non lo mangio io. No, perché? Non lo mangio, no, perché usano carne d'allevamento intensivo. Chiida direttamente le carni, vai. Mangia, è buonissima, col cheddar. No, non mi piace, non la mangio io, questa carne qui non la mangio, Giorgio. È buona, è per te, guarda che ti fa bene, devi mangiare, tu hai bisogno di calore. No, leva, leva, dai, non la voglio, non la mangio. Tieni, passa, mi perde, non la voglio, mi fa schifo, Giorgio, e dai, abbi pazienza. È incredibile. Non mangio carne di quel tipo là, va bene. Però così non va bene, mi fai arrabbiare, perché hai bisogno di mangiare, per la nostra salute, Giorgio, pure per te, non la devi mangiare, stazzo, se... Prova, fai uno sport, ancora, non la voglio. Non mangio carne, ma che ti frega, mangiala, dai, fudo qua per te, non mangio carne d'allevamento intensivo, lo capisci? Devi mangiare, senta, deve forzare, che non insisti, mi mandi in bene, adesso non fai così, a Giorgio, è incredibile, dai, forza, fai uno sport, mangiala, matta l'affanculo.